La spazio confido è una manifestazione che, specchio dei tempi, si organizza, aperto ovviamente a tutti i cani torinesi, per aiutare gli anziani più poveri, più marginali, più soli. Sono anziani che a volte hanno un animale in casa, e che può essere un cane, un gatto, anche un canarino, ma che a volte sono in difficoltà a poter acquistare il cibo per questi animali, e tanto più in difficoltà quando questi animali si ammalano e hanno bisogno di un veterinario. Ecco perché, specchio dei tempi, per sostenere il progetto Forza Nonni, di cui questa iniziativa fa parte, hanno organizzato oggi questa passeggiata che stiamo svolgendo al Valentino, con oltre 100 cani torinesi di tutte le rate, di tutti i tipi, di tutte le età, proprio per aiutare questi anziani a vivere meglio con il loro animale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.